più a caldo di così non si può romeo romeone mio amico romeo appena twittato dibala due punti il contratto non verrà rinnovato e non è uno dei fake perché queste giornate ne girano tanti è quello vero è romeo vero e se romeo si sbilancia non dico che siamo vicini alla certezza assoluta ma purtroppo molto probabilmente è così anche albanese fabiana della valle sto vedendo in questo momento confermano il contratto di paolo di vala con la juventus non sarà rinnovato verso la rottura il contratto non verrà rinnovato fa male a me sinceramente fa molto male mi dispiace un sacco più che altro è stata un'odissea e dobbiamo ripercorrere mentalmente tutto quello che è accaduto e cioè i segnali erano molto positivi tra juventus e dibala e a ottobre sembrava tutto fatto andare avanti insieme sembrava veramente tutto fatto poi quello che è successo ormai sinceramente non mi interessa del perché non si è arrivati a confermare questa cosa non mi interessa semplicemente perché probabilmente non sapremo mai la verità e dico però dico però che per quanto questa notizia faccia male bene o male era quello che volevamo sentire non per l'esito quanto per un punto definitivo la parola fine sulla questione sulla faccenda perché sinceramente è diventata invivibile per me tifoso lo juventus non immagino per il ragazzo paolo dibala ora qua si aprono tanti scenari tanti scenari perché bisognerà capire più che altro dove andrà dibala io lo dico tranquillamente se la juventus è stata lei a dire no guarda io non voglio rinnovare il contratto non c'è dubbio che e dibala sceglierà l'inter non mi sentirò tradito perché magari dibala vorrà cercare di avrebbe voluto andare avanti con la juve in caso invece in cui la juventus si è arrivata addirittura a proporre un rinnovo magari non a condizioni stratosferiche sicuramente non come quelle di ottobre ma al ribasso al ragazzo che lo va a rifiutare per condizioni economiche maggiori lì mi darebbe molto fastidio poi come sempre entriamo nel discorso del professionismo no ci sono i giocatori che fanno questo di mestiere e bene o male possano fare quello che vogliono io ho sempre pensato che avrebbe rinnovato lo dico tranquillamente e poi mi ha dato l'impressione invece del non rinnovo quando la settimana scorsa pre viglia real è stato spostato l'incontro per il rinnovo perché l'abbiamo detto no incontrarsi prima il viglia real per bloccare per staccare per dirsi addio sarebbe controproducente ora che il viglia real invece ci ha buttato fuori ha senso trovarsi ha senso mettere in chiaro le cose e si inizia già adesso a costruire la stagione dell'anno prossimo ve l'ho già detto tante volte anche solo il discorso rudiger è logico che venga fuori adesso perché adesso che si costruiscono le squadre adesso che si fanno i ragionamenti mi piacerebbe capire e probabilmente lo vedremo probabilmente forse lo vedremo nelle ore prossime nei giorni prossimi mesi prossimi anni prossimi non so nemmeno come la juventus andrà ad approcciare questa notizia che se farà un post di addio di ringraziamento non penso che verrà chiarito perché aspettiamo di sentire magari anche di bala che probabilmente parlerà a un certo punto io dico che fa male io dico che fa male perché di bala è uno dei giocatori semplicemente che negli anni ho imparato ad amare e come dicevo anche nel video di oggi credo che in questa juventus nello specifico a livello tecnico uno come di bala sia importante molto importante quindi bisognerà capire ora se le strade a quanto pare andranno separarsi come verrà sostituito sinceramente non ho nemmeno troppa voglia ora come ora di parlare dei nomi dei sostituti non mi piace non è non è quello che voglio voglio focalizzarmi sul fatto che sicuramente di bala è stato un giocatore importante per la juve è quasi il decimo migliore marcatore della storia della juve è il vice capitano della juventus e pensare che comunque anche chiellini l'anno prossimo o sarà l'ultimo anno vedremo anche in confronto al mondiale in relazione al mondiale o l'anno dopo ancora saluterà la juventus abbandonerà la juventus lo stesso bonucci non è più un giovincello questo è proprio il momento in cui mi accorgo che che ci si sta staccando da questa realtà poi io sono dell'idea che uno come di bala in questa juve poteva comunque essere molto importante sono curioso anche adesso di vedere dove andrà e sono curioso di vedere la reazione anche del pubblico juventus perché ho avuto questa sensazione sia per di bala sia per allegri che sono due argomenti spesso che dividono dividono sul web quando anche l'altra sera sono stato allo stadio non ho visto tutto questo odio dentro lo stadio ma anche ieri testimoniato dal fatto che di bala è stato salutato con un applauso e sembrava un'immagine da dio ma io non me l'aspettavo sinceramente visto che poi si sono andati a incontrare due ore di colloquio tra l'altro pensavo si potesse arrivare a un punto in cui ci si metteva d'accordo ma lo stadio i tifosi sia di bala che allegri li hanno supportati poi ovvio che ci sono stati fischi alla fine del via reale indubbiamente che un po anche lo specchio di quello che accade sul mio canale perché tante volte mi ritrovo tante critiche a volte nemmeno costruttive proprio critiche insulti offese cose pesanti brutte nei miei confronti ma davanti allo stadio mi sono trovato in una situazione in cui mi sono sentito veramente amato tante chiacchiere con voi tante foto con alcune abbiamo avuto anche una birra quindi il mondo reale il mondo web sono due cose abbastanza diverse gli umori non sono sempre gli stessi e mi dispiace sinceramente mi dispiace perché si mette la parola fine a un percorso in cui questo ragazzo abbiamo visto crescere perché è arrivato veramente giovane e se ne va da uomo perché siamo quasi coetanei lui ha un anno in meno di me io sono 92 le 93 e quindi quando vedi crescere dei giocatori del genere poi con la 10 sulle spalle è stato bello io dico che è stato bello poteva finire molto meglio ma è stato molto bello e speriamo che questa stagione possa finire nel migliore dei modi anche perché mi piacerebbe veramente finire nel migliore dei modi per salutare nel migliore dei modi appunto paolo di bala poi come sempre la juventus viene prima di tutti ragazzi non c'è giocatore allenatore niente che che verrà prima della juve la juve rimane per fortuna anno prossimo la juve ci sarà ancora ti faremo ancora juve ci saranno altri giocatori a cui diventeremo molto più affezionati sicuramente pensare che nel giro di due anni cacchio perdiamo ronaldo perdiamo di bala chiesa si è fatto un crociato quindi vedremo come tornerà rispetto all'anno scorso la juve dell'anno scorso sicuramente la juve del prossimo anno sarà molto differente molto differente e quindi a questo punto mi auguro davvero che sul mercato si possa andare incontro a migliorare sensibilmente la rosa io vi giuro che ci ho creduto io vi giuro che ci ho creduto e quando ho letto il tweet di romeo non verrà rinnovato il contratto il cuore perché ragazzi inutile girarci intorno l'affetto nei confronti dei calciatori c'è so che ha tanti di bala che sta sulle balle io di bala voglio umanamente molto bene perché mi ha fatto vivere diverse serate belle mi ha fatto esultare tante volte per me rimarrà per sempre nella storia della juve e quindi grazie paolo in bocca al lupo per il futuro e sperando di capire prima o poi se è stata una scelta da parte della dirigenza da parte del giocatore sperando addirittura che le nostre state possano non rincontrarsi da avversari ma continuare con questo rapporto di rispetto fiducia e amore che c'è stato in questi anni fatemi sapere un po anche voi se ve lo aspettavate e soprattutto come ci siete rimasti come avete accolto la notizia se secondo voi è giusto oppure sbagliata ma come sempre e pensiamo sempre a quella cosa lì la juventus c'è rimane e ci aggrapperemo sempre a questo è però ovviamente quando se ne va un giocatore con così tante presenze tanti gol con la juve un pochino dispiace grazie